Con Giulia, fuori dall'Istituto Magistrali di Cuneo, appena uscita dalla prima prova di maturità d'italiano, ti chiedo che traccia hai scelto, se sei soddisfatta del tuo tema. Sì, ho scelto la tipologia e l'analisi del testo e sì, sono abbastanza soddisfatta. Ho cercato di fare il meglio che potevo e c'erano diverse tipologie di testo, alcune più difficili, altre più facili. Ero indecisa tra la tipologia A e quella D, però alla fine ho scelto la A. Allora, io ho scelto la traccia del saggio breve della tipologia B e l'ambito storico-politico. Le impressioni sono state di tracce non facilissime, ma neanche così difficili. Ho improntato il tema dal punto di vista storico, partendo dall'impero romano, successivamente raccontando tutta la storia dell'Italia e fino ai giorni nostri, perché chiedeva poi anche dei riferimenti alla ricostruzione del paese dopo la guerra o anche comunque dopo distruzioni avvenute da calamità naturali come terremoti o mareggiate. Per ora sono soddisfatto e poi ovviamente aspettiamo l'esito, però dovrebbe essere andato tutto abbastanza bene, o almeno speriamo, anche perché comunque durante l'anno ho sempre avuto dei risultati abbastanza positivi, quindi sono fiducioso. Ho scelto la tipologia B, che è il saggio breve, ho scelto l'ambito socio-economico, che è un ambito che comunque è del nostro indirizzo, quindi mi sono trovato molto bene. Spero che sia andata bene, ho messo anche degli approfondimenti che avevamo fatto in classe e anche della cultura generale che avevo approfondito io personalmente e spero sia andata bene. Le tracce mi hanno soddisfatto, io parlo sempre per l'opzione economico-sociale delle magistrali, dell'Istituto delle Scienze Umane, a me hanno soddisfatto perché erano molto legate allo studio che abbiamo fatto in questi anni. Sì, ho scelto la traccia socio-economico, che parlava principalmente dell'inserimento della robotica nel mondo del lavoro e degli effetti che può comportare. Sì, sono contento, ho fatto una buona prova, oltretutto mi ha aiutato il fatto di averlo studiato durante l'anno in Scienze Umane, quindi quello mi ha dato una grossa mano e l'ho trovato comunque fattibile. Adesso un pochino di riposo, poco, perché domani si torna sui banchi per la seconda prova. Come vivrai questa prova? Per te più facile, più difficile? Più facile, francese, solamente comprensione e produzione scritta. Per te oggi è una giornata abbastanza tranquilla o si studierà ancora tanto? No, si studierà ancora tanto, da oggi fino all'orale, al giorno dell'orale. Quindi la sensazione adesso di esserti tolta un piccolo peso, ma c'è ancora un lungo tragitto? Sì. Sì, assolutamente. Diciamo che inizia davvero domani perché ci sono le materie più toste e che chiedono più formazione di studio, però ormai abbiamo capito com'è e quindi sappiamo come affrontare l'esame al meglio. Come seconda prova avremo diritto, abbiamo tempo per riposarci ma nemmeno tanto perché poi domani siamo già subito lì sui banchi. E come sarà questa prova? La temi o insomma qual è quella che temi di più, quella più temuta? La più temuta è la terza prova, ahimè, perché sono vari studi diversi e quindi bisogna mettersi sotto. Diciamo che questo era il peso alla fine, era la prima prova quindi subito un po' di ansia da scuola e da tutto, però è ancora la prova più facile perché poi domani con il tema di diritto e poi successivamente con terza prova e l'orale in seguito viene ancora più di ansia perché comunque sono prove più difficili, più complicate, però basta saper gestire le emozioni e è sempre tutto come a scuola, quindi nulla di più. Perfetto, ti ringrazio in bocca al lupo. Grazie mille, arrivederci.